Dopo un anno di assenza torna seppur in una versione inedita indoor Eurociocolat il festival internazionale del cioccolato che in questa special edition si è trasferito negli ampi spazi interni di Umbria Fiere. Così per la prima volta nella sua storia Eurociocolat esce dal centro storico di Perugia pronto però a tornarci già dal 2022. Intanto però i 14.000 metri quadrati del centro fieristico di Bastia hanno permesso all'organizzazione di offrire spazi ludici e culturali oltre a quelli commerciali. Siamo tornati dopo un anno e mezzo di assenza ci fa molto piacere anche perché abbiamo potuto sperimentare un format nuovo indoor con tante possibilità di creare momenti ludici di intrattenimento ma anche culturali. Chiaramente gli spazi si prestano a questo tipo di progetto certamente però l'impegno è quello di tornare a Perugia cercando di garantire comunque il giusto bilanciamento tra quelle che saranno le possibili azioni di impresa che possiamo fare come azienda privata e il contesto che avremo nel 2022. Un'esperienza tutta da provare è quella del Bintubar che permette di seguire dal vivo passo dopo passo il processo di produzione del cioccolato dal seme della fava di cacao fino alla barretta. Bintubar è presidiato da questo gigante che è Montezuma che l'abbiamo collocato proprio all'ingresso, è un stato di 4 metri e 50, è un percorso che educa il consumatore appunto la conoscenza del cioccolato perché il viaggio va dalla fava di cacao fino appunto alla tavoletta di cioccolato. Per le nostre spalle c'è un'Italia di cioccolato, un bel segnale questo. Sì è un'Italia unita, un'Italia appunto unita dai cioccolatini che distribuiremo a tutti coloro che hanno acquistato un biglietto d'ingresso maggio e anche qui c'è Garibaldi che la tiene unita, è un invito a venirci a trovare nei prossimi giorni fino al 24 ottobre.